La giornata ipica targata a Maia si apre domani alle ore 15.25 con il premio Courtier Duval. 6 cavalli agli ordini dello starter con Aragold ad accappararsi i favori del pronostico dopo l'ultima sfortunata uscita quando sembrava avere la vittoria in tasca ma una caduta ha fermato la sua marcia verso la vittoria. Si prosegue con una reclamare piana sul miglio in cui Mauriac potrebbe emergere positivamente alla distanza sul redivivo il banchiere. Si continua con una vendere camuffata da condizionata sulla distanza dei 3.000 metri in cui Tobacco montato da Raffaele Romano pretende la prima citazione grazie anche al supporto dei compagni di colori e di allenamento Relco Nordic e Miss Approach. La quarta corsa ha un'altra piana, ottimi soggetti, la qualità parla a favore nettamente di Wakeman anche se di recente Raimondi ha fatto vedere di essere in condizione smagliante. Alternativa l'attendista Zabu. La quinta al clou del pomeriggio con un premio in memoria di Something Special in cui il terzetto di Paolo Favero composto da Kitano, Magica Vita e Ocean Secret appare difficilmente battibile. Sesta altra piana riservata a Gentleman ed Amazzoni sul miglio allungato in cui Marchi forse potrebbe ritrovare il circoletto rosso La Bella Donna permettendo rivista in crescita. L'intenso programma meranese si conclude con una reclamare che vede protagonista l'alterno Andrea Doria assieme a Empolino.